buonasera a tutti sono luigio nadacus e preferite mentre su dragonzea dhokan battle oggi affronteremo la seconda parte della tripletta di video riguardanti il nuovo dual dhokan fest del nostro adoratissimo veget blu e del nostro fantastico rosè abbiamo visto cosa penso del nostro carissimo legge blu vediamo cosa penso di una bacche che secondo me è superiore ovvero quella di rosè str quali sono i pg rita abbiamo il nuovo zamasu int che io adoro io personalmente lo adoro zamasu int spero di riuscire a portare presto e sia 10 ce l'ho temo ability free non mi ricordo se di recente ho trovato la seconda copia però mi diverte la mare a giocarlo rosè str miglior pg del gioco al momento della sua uscita nel global omega fisico gran pg brawley super saiyan 3 il muro umano the human wall colui che può shottare il mondo ma se viene sfiorato da un alito di vento muore cooler altro grandissimo pg super c17 pg alla fin fine carino niente eccezionale ma carino zamasu agl nuovo sr con cui farmare ls a di zamasu liscieron agl con cui farmare ls a dei li e degli omega c17 con cui farmare ls a di c17 e di sc17 poi ci sarebbe anche quella ciofe che è inutile quello brobrio quella nullità di black fisico ma la speranza è che lo tolgano a parte gli scherzi black fisico un insulto a black spero nella sua versione v2 magari anche se qua chiedo troppo extreme str il prima possibile perché davvero io ce l'ho o full ability o ability 3 mi sarebbe dato anche le orvi giusto per dire dai non può fa schifo come credo e vien da piangere ogni volta ed è una cosa diversa da quello che possa avere con goku angel se goku angel proprio lo vedi che può fare qualcosa ogni tanto se prende quella scia di orb rainbow goku angel le cose le fa black manqua a full schermo fa qualcosa comunque molto semplice avete già visto il video di verget blue se siete free to play all in se questa è la batch che fa per voi pullateci tutto avete la fortuna che rosè basta ability free rosè ability free è più forte di un rosè agl full ability rosè ability free da tutto il sustain al gruppo che gli serve in ogni team in cui lo potete giocare al massimo è un pochino poco nella road ability free però oltre quello è davvero una bestia gigantesco e fantastico su questo è anche superiore a bardak perché bardak comunque necessita ability 1 per dare il meglio di sé però tanta tanta roba prendete una coppia starete benissimo per i delfini la situazione è circa quella che abbiamo per vegget ovvero mille stone la differenza che vanno studiate in una maniera leggermente diversa mentre le mille stone su vegget erano principalmente portare ability 1 vegget quale mille stone sono fatte per crearsi una parvenza di team e migliorarlo in quanto a rosè str basta la monocopia per essere una macchina da guerra inarrestabile mirate a potenziare broli omega e cooler che sono i tre principali pg oltre lui di questa baccia anche se c 17 nel caso di mancanza di margin vegeta ed avere vi ricordo che team come vedremo nel dove pullare le bacce richiede incestano di un pg a colore quindi approfittatene al meglio ragazzi c'è bisogno di avere 3 pg per avere il team decente questa bacce però ti aiuta molto di più di quella di vegget quindi tranquilli avete quello che fa che vi serve dovete solo sperare di pullarlo mille stone non sono tantissime però già il mirala la monocopia di rosè secondo me è un valore aggiunto alla baccia rispetto a mirala la doppia copia di vegget che anche per i delfini che magari possono shoppare ma non eccessivamente può essere un po problematica se non sono tenuti le stone da parte e alle balene consiglio le solite 2000-3000 stone loro in realtà possono mirare tranquillamente a maxarsi i rose str ma io vi consiglio soprattutto di pensare a mirare anche a broli terzo broli terzo da portare su per il team super saian 3 cooler nel caso siete delle balene ma comunque non abbiate voce che la r da portare su per il futuro movie bosses omega potete portarlo su e no meno male sta perdendo sempre più utilizzo s17 idem portarlo su o no cambia poco black teneteli da parte in modo da dover farmare meno black tech quando uscirà il nuovo black non ho altro da dire detto questo io vi ricordo anche in questo video che se volete shoppare di utilizzare gli unici reseller ufficiali della community ovvero gli unici col marchio priscilla i migliori che trovate qua nel link in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video mentre sarà si suicida su overwatch noi ci vediamo al prossimo video ovvero il dove pullare in cui cercherò di aiutarvi a capire se vi conviene pullare da rosè o da veget buona serata e alla prossima